Portare all'attenzione della situazione rispetto a due riorganizzazioni che stiamo discutendo con la Direzione Sanitaria in merito alle sale operatorie e alle radiologie. La sale operatoria ha in questo momento una proposta da parte della Direzione Sanitaria che, come dicevamo, stiamo discutendo con un confronto contrattuale rispetto a un possibile cambiamento dell'orario di lavoro. Cambiamento dell'orario di lavoro che prevede un cambio dell'entrata e dell'uscita per il personale del comparto con un'uscita che passa dalle ore 20 alle ore 21. Due riorganizzazioni che non convincono i lavoratori dell'azienda ospedaliera di Padova. Cambi d'orario che vanno a modificare profondamente la vita delle persone. Paure emerse anche da un sondaggio fatto dal sindacato tra i lavoratori. Abbiamo scoperto che la volontà è quella di inserire per i tecnici della radiologia le 12 ore, non continuativamente ma con dei turni specifici mensili, per recuperare personale. Qual è stata la risposta del personale? Si iniziano a vedere le dimissioni. Lo stesso per il personale sanitario, che vuol dire sanitario assistenziale, infermieri e os, che dicono per noi ci sono dei problemi logistici. Iniziare più tardi vuol dire non arrivare a questo ospedale, come finire più tardi non esci da questo ospedale perché sapete dove siamo logisticamente, lo vedete. La richiesta della CGL è di fare marcia indietro. Noi chiediamo che questa riorganizzazione non venga messa in atto perché lo stesso personale in circa 5 assemblee, quindi circa 500 lavoratori ascoltati, hanno espresso una motivazione negativa rispetto a questa riorganizzazione. L'azienda ospedaliera di Padova assicura che la trattativa è ancora in corso e nulla è stato deciso, ci sono margini di aggiustamento. Il dialogo con le organizzazioni sindacali è sempre stato uno dei punti importanti di questa direzione, cioè avere un dialogo costante e continuo con chi rappresenta i lavoratori. Certamente all'interno dell'azienda sanitaria le riorganizzazioni, le rimodulazioni delle modalità di lavoro sono costanti e continue in base alle necessità che si vengono via via a presentare. Però appunto discussione aperta, tavolo aperto, confronto per trovare la soluzione migliore. Grazie a tutti.